eccoci qua buongiorno a tutti allora ne abbiamo parlato tante volte qual è lo strumento fondamentale da avere a casa prima di accogliere il cucciolo lo sapete già tutti il recintino modulare ora parliamo di quale tipo di recintino modulare è meglio degli altri allora io utilizzo questi qui e sono quelli che vi consiglio anche a voi il recintino di ferro che poi dopo tranquillamente ripiegabile vi sconsiglio invece di utilizzare i recintini quelli in plastica perché dopo il il recintino in plastica in particolare hanno una tela diciamo sul basso sul fondo del recintino e questo diciamo vi impedisce anche di pulirlo nella maniera adeguata quindi è più difficile da gestire mentre il recintino in ferro siamo sicuri che il cane non andrà a rosicchiarlo e diciamo potrà svolgere tutte le funzioni per il quale noi l'abbiamo allestito che ricordiamoci sono intanto dare un ambiente circoscritto all'animale questo gli dà molta più sicurezza e poi dà sicurezza anche a noi perché evitiamo che magari durante la nostra assenza il cane possa andare a sporcare in giro per casa quindi recintino modulare uno strumento veramente fondamentale e ve lo consiglio di questi in ferro ripiegabili io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata